quando ve lo dicevo io che giuseppi non mi convinceva e mi scrivevate che ero un bastian contrario ed ora ci avete sbattuto la faccia purtroppo non posso risolvere la situazione con un ve l'avevo detto ma almeno sono soddisfatto di non essere una pecora era il più bello era il premier più elegante era il premier che sapeva parlare era graziato e piaceva alle nonne e alle quarantenni e anche le più giovani era il premier delle donne tutti soddisfatti di giuseppi guai a toccarlo è una rivista ha fatto le leggi a difesa di suo suocero ha speso migliaia di euro per farsi la regia a palazzo chigi ma il peggio è che ha mandato il paese alla malora assieme i giallorossi sì perché oltre giuseppi sono una massa di sconsiderati senza cervello non si rendono conto che per le loro poltrone stanno disintegrando un paese anche se questa maledizione sull'italia corre da oltre vent'anni da quando si è iniziato a cercare di togliere il valore finanziario all'italia ma ora in questi tre anni hanno dato il peggio di loro stessi affondando l'italia nella peggiore situazione nella quale si poteva cadere purtroppo gli italiani sono suddifisi in tante fazioni e questo crea la difficoltà di raggrupparli e farli ragionare sulla strada del bene collettivo infatti anche a livello europeo hanno capito che per poter governare senza interferenze si deve creare la diversità ideologica fisica ed etnica in realtà la strategia di incentivare la femminilizzazione dell'uomo e creare una buona percentuale di ibridi è partita da diversi anni come lo stesso di far invadere il paese dai migranti con la scusa di essere umani ma il problema è che non accolgono le persone dei popoli che sono veramente in guerra invece accolgono tutti anche chi non ne ha bisogno proprio per creare una miriade di comunità che non vanno d'accordo tra loro per la differenza sociale e religiosa che tra le cose tra qualche anno quando soprattutto i musulmani saranno tanti andranno in conflitto con gli lgbt poi ci sarebbe un discorso a parte per i cinesi che in merito mi fanno ridere le vignette che elogiano i cinesi perché rispettosi non rubano non si ubriacano eccetera eccetera quindi ben accolti nel paese mentre non hanno capito che i silenziosi cinesi si stanno comprando il paese invece di dire povera italia mi viene da dire poveri italiani non è un difetto attaccarsi ad una persona che si pensa sia al salvatore del popolo il difetto è non vedere e capire ed ascoltare chi ci mette in guardia poi quando ci si rende conto che il beniamino non è quello che credevamo lo si disconosce e si nega di averlo portato sul palmo di mano ora gli stessi politici che hanno portato al vertice giuseppi stanno tentando di abbatterlo dato che ha deluso tutti si sono accorti alla fine che vuole essere lui la prima donna assoluta al vertice del potere ma purtroppo se almeno avesse avuto la capacità di risollevare il paese invece di farlo sprofondare nel buio assoluto avremmo sopra seduto al suo ego e non fatevi ingannare dei politici tipo renzi ed altri che fanno finta di volergli fare la guerra non vogliono il bene del paese ma solo il proprio bene la soluzione utopica è quella che per risolvere il problema ci vorrebbe che gli italiani fossero davvero uniti e compatti ma la vedo dura molto dura troppe idee contrastanti e spesso molte persone vedono il bene nel confine del male altra cosa necessaria sarebbe fare una bella tabula rasa a livello europeo e ricominciare con persone oneste con valori e tradizioni ma questa è una favola che è inutile da immaginare